Un attimo, allora ci si, 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 buongiorno. Dottoressa Maria Laura, innanzitutto la ringraziamo per la sua presenza qua, per la sua disponibilità, gratuità e volontariato. Com'è la situazione cardiologica della provincia? Andiamo in corso, spazzolandola tutta. Allora, io devo dire, sono molto contenta di essere qui, questa è la seconda edizione, è ancora meglio dell'anno precedente, speriamo che ce ne siano altre, è la mia terza giornata, io credo molto nella prevenzione, infatti ho organizzato convegni, ribattiti, solo che sto vedendo che si stanno venendo a controllare i giovani atletici, invito anche magari qualcuno con sovrappeso, con problemi a venire, perché la salute è importantissima, la salute del cuore, l'attività fisica, il compenso metabolico, il colesterolo, la cucinia, quindi sono importantissima. Quindi prometto il mio impegno per questo, ovviamente è un bellissimo, anche un bellissimo progetto di solidarietà per il Comune, che speriamo vanno più presto, perché credo che questo è il tempo che riusciamo a dedicare in queste giornate sia poco, ce ne voglia tanto altro. Ricordiamo che la dottoressa Maria Laura Cazzuco è anche impegnata nel sociale, tant'è che abbiamo un appuntamento per vedere che si piace la letteratura, gli piace conoscere la gente, mi piace tutto, mi piace tutto in questo momento, la cultura a 360 gradi, la cultura, la solidarietà, la cultura a 360 gradi, quindi ribadisco, oltre al mio impegno che sarà costante per la cittadinanza, per la popolazione, c'è anche questo invito che il 3 novembre abbiamo... 3 maggio? 3 novembre, 3 maggio, sono andata un po' troppo avanti. Per una finestra di letteratura, presenteremo un libro a meta nella casa... No, 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 a Bella Fondi, a Bella Fondi, a Bella Fondi. Cominciate da capo e presentatelo bene questo evento, quando ci sarà? Ci sarà il 3 maggio alle 1930 a Bella Fondi, parleremo con il Presidente Raya, con il dottore di Napoletena, della rivoluzione del 99 napoletana, un tentativo di libertà, di guapianza, di fraternità che purtroppo è finito male, ricautando i principi della rivoluzione francese, e quest'anno è il 230esimo anniversario. Invito tutti a partecipare, vedo che sia un evento interessante, sicuramente. Ma ringraziamo e la lasciamo ai nostri pazienti. Grazie, grazie.